La DDA di Bari ha identificato e fatto arrestare i presunti autori dell'omicidio del 28enne Angelo Popolizio, ucciso da Altamura nel Barese il 7 agosto del 2014. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Bari hanno notificato ai due indagati, già in carcere per un'altra causa, un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari per i reati di concorso in omicidio, occultamento di cadavere e porto e detenzione di arma da fuoco aggravati dal metodo mafioso. Si tratta di due affiliati al clan d'Abramos Forza di 39-44 anni. Le indagini hanno accertato che i due indagati all'alba di quel giorno, di otto anni fa, avrebbero prelevato Popolizio da un circolo ricreativo e dopo averlo condotto in aperta campagna lo avrebbero ucciso, esplodendo diversi colpi di arma da fuoco. Caricato il cadavere in auto, poi lo avrebbero lasciato in custodia di un altro sodale che si sarebbe occupato di sopprimerlo e occultarlo, non consentendo agli inquirenti ancora oggi di ritrovare il cadavere. L'omicidio, ritiene la DDA, sarebbe stato commissionato dopo aver appreso che il 28enne era stato a sua volta incaricato da un clan rivale di uccidere un esponente di vertice del gruppo criminale d'Abramos Forza.